Grazie a tutti. La parola al collega Vallardi. Prego. Beh sì, innanzitutto per un saluto, grazie per questo incontro con il Ministro. Stiamo vivendo un momento particolare della nostra agricoltura e mi sembra che stiamo lavorando bene, quindi benissimo questa riunione che ci permette di fare il punto sulla situazione. Tante sono le cose di cui l'agricoltura ha bisogno, ma soprattutto credo in questo momento, ma poi anche dalla parola dei colleghi che faranno le domande dopo aver sentito la relazione da parte del Ministro, io credo che serve l'urgenza degli interventi. Perché tanti ne stanno arrivando, ma serve scaricarli a terra, come si suol dire dal punto di vista agricolo, subito, perché tantissime aziende stanno soffrendo, ma soprattutto tantissime aziende stanno chiudendo e soprattutto nei giovani agricoltori, soprattutto nel settore dell'allevamento lattiero caseario, c'è veramente un po' di disperazione, perché parlare di disaffezione è poco, c'è una vera e propria disperazione, dobbiamo intervenire, ma intervenire subito. Quindi questo è il mio accorato appello, che poi non interverrò più, nei confronti del Ministro. So che ci stiamo impegnando, però bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché secondo me ormai siamo in zona Cesarini per tutto questo settore. Bene, grazie Ministro. Noi abbiamo fino alle 9.30, non so quanto durerà la sua relazione, poi eventualmente se non c'è tempo per la replica, come sempre immagino che lei darà disponibilità ad un'altra data. Quindi le lascio subito la parola. Grazie Presidente Garinella, grazie Presidente Vallardi, un saluto alle commissioni agricoltura di Camera di Senato, ovviamente Presidente Garinella, la mia disponibilità come sempre è a vostra totale disposizione, quindi quando voi chiamate io arrivo. Quindi se non riusciamo a concludere oggi, possiamo calendarizzare immediatamente una nuova audizione formale. Il Presidente Vallardi ha colto perfettamente il segno del momento. Io ricordo che sul tema della PAC ci siamo visti l'ultima volta a dicembre dello scorso anno. Il mondo nel frattempo è cambiato profondamente anche per i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari. Anzi, in particolar modo, probabilmente questa crisi rispetto alla pandemia incide molto di più sull'agricoltura di quanto abbia inciso il Covid, perché ovviamente il tema dei costi delle materie prime e della difficoltà di approvvigionamento, non tanto per mancanza di materiali, ma per dei moti speculativi che vediamo abbastanza frequenti, quindi chi ha le merci non le mette sul mercato perché ovviamente vuole trarre il massimo vantaggio dall'aumento dei prezzi. È chiaro che in questo quadro anche il principio della PAC riveste da un lato un ruolo ovviamente fondamentale per la gestione dell'agricoltura del nostro Paese nella programmazione che si può federare nel 2027, dall'altra parte però ha bisogno di essere adeguato anche alla contingenza del momento relativamente a alcune sue previsioni. Io ho sempre detto e dichiarato che non credo che debbano essere messi in discussione gli obiettivi del Green Deal, della Fanto Forza, della Fanto Forza e della Biodiversità, devono essere sicuramente perseguiti, però serve probabilmente una maggiore flessibilità in entrata per adeguare alla contingenza ciò che abbiamo intenzione di fare come ragionamento strutturale. Dicevo ci siamo visti a dicembre, nel frattempo abbiamo consegnato la bozza di teatro strategico, su quella bozza come noto a marzo sono arrivate le osservazioni della Commissione. Io vorrei tornare un attimo però sulla questione delle emergenze che è introdotto dal Presidente Vallardi e per ringraziare le commissioni di Camera e Senato perché il Ministero, io ma ovviamente tutta la mia struttura, fa impossibile per inserire all'interno dei decreti che facciamo, compreso l'ultimo che non è ancora pubblicato ma che mi auguro e spero sia rapidamente pubblicato in gazzetta, noi cerchiamo sempre di mettere al centro i temi dell'agricoltura attraverso dotazioni finanziarie, ma anche attraverso semplificazioni e in qualche modo elementi di supporto alle produzioni, ai produttori del settore primario. Però, e da questo mio ringraziamento, in ogni percorso legislativo, nel momento in cui i decreti vengono convertiti dalla Camera e dal Senato, le commissioni agricoltura hanno sempre introdotto elementi di novità migliorativi dei gesti che sono del Consiglio di Nistri. Quindi credo che sia un segnale anche di come le commissioni lavorano sistematicamente, certamente all'interno delle forze di maggioranza, ma anche con le forze di posizione per dare risposte ai produttori. Nell'ultimo decreto, quello che sarà pubblicato per questa settimana, ci sono alcuni elementi importanti, un forte potenziamento delle dotazioni verismea per le garanzie. Come noto, abbiamo introdotto nel decreto precedente una disposizione che parla di possibilità di ristrutturazione dei debiti, quindi dei mutui e dei prestiti delle imprese, con una sprematura su 25 anni, una rinegoziazione dei debiti. È chiaro che con i nuovi regimi temporanei e con le nuove disposizioni, la dotazione di smia dovrà essere rafforzata per gli accantonamenti di garanzie. Questo ovviamente consentirà di erogare un maggior numero di garanzie possibili. Su questo tema abbiamo, secondo me, ancora un problema a livello europeo rispetto alla quantità dei minimis. Ritengo che il nuovo quadro temporaneo di 35 mila euro sia stato un risultato minimo acquisito dal commissario, però era necessario fare di più. Sarà necessario rivedere strutturalmente la dotazione delle minimis per le aziende agricole che in questo momento stanno già esaurendo, viste da tante attività che abbiamo messo in campo, stanno già usare del loro profondo. Questo quindi un forte potenzialmente abbiamo rafforzato il fondo ottiviere con altri 20 milioni di euro e ci sarà il bonus 200 euro anche per i cosiddetti braccianti, per tutti i lavoratori stagionali dell'agricoltura. Ovviamente poi il Parlamento, quando arriverà il decreto, quando potrà convertirlo, sono certo che troverà altre dotazioni e altri strumenti per stare vicini il più possibile a un settore produttivo che rappresenta un valore economico enorme per il nostro Paese, ma in questo momento sta soffrendo particolarmente. A livello europeo noi abbiamo chiesto diverse cose e devo dire che solo parzialmente siamo stati ascoltati in ordine ad esempio alla necessità di rallentare il percorso di attuazione della nuova PAC che ha obiettivi, come dicevo prima, totalmente condivisibili, che vanno raggiunti, vanno perseguiti, ma che vedono in questo momento difficoltà di investimento da parte degli agricoltori e quindi come è stato fatto un biennio di Stenstil sostanzialmente, dei nuovi regolamenti per causa Covid, probabilmente anche in questa fase avrebbe bisogno di una riflessione non, ripeto, sugli obiettivi strategici e strutturali, ma sull'attuazione puntuale della PAC. Abbiamo chiesto una misura straordinaria, un modello misura Covid sui PSR, in modo da poter garantire alle regioni anche una capacità di spesa. È evidente che oggi i bandi dei PSR, non dico che vadano deserti, ma sono meno attrattivi perché le imprese hanno scasse capacità di investimento e quindi quelle risorse possono essere utilizzate per misure straordinarie di crisi gestite direttamente dalla regione. Oltre al piano strategico nazionale esiste ovviamente il piano nazionale di ripresa e resilienza, noi stiamo rispettando tutte le tempistiche che c'eravano dati sulle diverse misure. Abbiamo emanato il quinto bando per i contratti di filiera, stiamo rapidamente implementando le condizioni che si occupano della valutazione dei progetti del quarto bando per scorrere la gradatoria, stiamo valutando i progetti esecutivi del comparto in riguo per quanto riguarda quella misura così fondamentale, dentro settembre saremo in grado di avere la gradatoria. Stiamo implementando, come credo che è già partito, sulla parte dei 100 milioni per i nuovi frantoi, ma la misura della meccanizzazione per altri 400 milioni sarà rapidamente portata nelle disponibilità delle regioni perché abbiamo intenzione di regionalizzare quella misura. Sulla parte agri-solare abbiamo notificato in Europa il decreto, siamo in attesa della luce verde da parte della Commissione. Su questo nel decreto aiuti ci sarà una novità che al momento è una predisposizione A, ovvero uno dei temi che le imprese hanno un po' criticato del nostro decreto era la questione dell'autoconsumo per il settore primario, cioè per la vendita vincola, ovvero l'impossibilità di installare in copertura un numero di pannelli che consentisse una produzione energetica superiore al bisogno di consumo interno dell'azienda stessa. Questo però è un vincolo a livello europeo del quale si sta però discutendo, ne ho parlato con il Ministro Franco, insieme al Commissario Gentiloni si sta adoperando per questo, laddove l'Europa decidesse di superare quel vincolo noi abbiamo già previsto la norma del decreto aiuto che ci consente di attuare direttamente nella possibilità di incentivare l'installazione di pannelli anche oltre l'autoconsumo aziendale, credo che sia un obiettivo che dobbiamo perseguire. Quindi condividendo le parole del Presidente Vallardi sulla necessità di arrivare naturalmente a terra con le risorse, che è la vera sfida del Piero nazionale di ripresa di esigenza e anche delle ingenti risorse della PAC e dei vari decreti che abbiamo fatto in questi mesi, stiamo davvero cercando di fare il possibile perché ciò accadrà veramente. Cito il Piero nazionale di ripresa di esigenza anche perché in qualche modo la strategia nazionale sull'agricoltura non è costituita esclusivamente da un elemento ma è composto dal Piero Stato di Ripresa di Esigenza con le risorse della PAC con il Piero nazionale di ripresa di esigenza e con le misure per le diverse leggi di bilancio e i diversi provvedimenti che abbiamo fatto che hanno carattere emergenziale in alcuni casi ma in altri sono misure strutturali e quindi il disegno dell'agricoltura dei prossimi dieci anni lo vediamo dall'insieme di questi fattori. Venendo al Piero strategico i suoi obiettivi sono il potenziamento della competitività del sistema in attiva sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro avvicoli forestale di qualità e sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenze, ricerca e innovazione, l'ottimizzazione del sistema di governance. Per raggiungere questo traguardo il piano prevede di destinare circa 10 miliardi di euro tra prima e secondo pilastro agli interventi con chiare finalità ambientali. Nell'ambito di questa cornice a grande importanza ovviamente ci assumono i 5 ecoschemi nazionali che qui sarà allocato il 25% delle risorse di aiuto diretti pari a circa 4,4 miliardi di euro. Questo da un lato consente il raggiungimento di obiettivi ambientali, dall'altro ovviamente riduce quasi il 50% tra pagamenti diretti, il prelievo 3% per i fondi di neutralizzazione, pagamenti accoppiati e giovani in agricoltura, il range di pagamenti diretti assieme ai greening della programmazione precedente è ridotto del 50% circa per i prelievi che vengono fatti sul primo pilastro. Questo ovviamente si riflette poi sui pagamenti diretti, appunto sui titoli delle aziende. I nostri 5 ecoschemi prevedono il primo ecoschema che riguarda il benessere animale su due livelli con la riduzione del farmaco e quindi degli antibiotici. Il primo livello è il benessere al pascolo, il secondo livello. Un secondo ecoschema che riguarda l'inervimento delle culture arboree con culture permanenti, quindi legnose e agrarie e altre specie arboree permanenti, interattazione rapida, gestione del suolo con un inervimento spontaneo e artificiale, non lavorazione interfile, limitazione dell'uso di fitosanitari. Un terzo ecoschema che riguarda la salvaguardia degli ottimi di olivi, di particolare valore paesaggistico. Il quarto ecoschema che riguarda i sistemi di foraggio estensivi, assimilabili tutti i simili attivi in avvicendamento, rispetto ai impegni di coltivazione di leguminose da granelle a foraggio e di altre culture foraggere. Poi il quinto ecoschema che riguarda misure specifiche per l'impollinatore, è un ecoschema di limitata portata economica, ma molto importante per il settimo apistico e per la tutela della biodiversità del nostro paese. Gli ecoschemi operano ovviamente in sinergia con gli interventi dello sviluppo rurale, in particolare con i 26 interventi agroclimatico-ambientali contenuti nel secondo pilastro, con adottazione di circa un miliardi di euro, gli interventi a favore della forestazione sostenibile per circa 500 milioni di euro, le misure di sostegno agli investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali e con finalità ambientale pari a 650 milioni di euro. A queste misure si aggiungono, come dicevo prima, tutte le parti che riguardano gli investimenti ambientali del piano nazionale di defesa e resilienza e le azioni ambientali che sono contenute comunque negli interventi settoriali delle organizzazioni comuni di mercato, tutte le OCM che rimangono infatti un motore molto importante per gli investimenti agricoli. La parte che mi piace sottolineare è l'operazione che abbiamo fatto sul tema del biologico. Come è noto, il biologico da un lato ha un problema di mantenimento e dall'altro ha un problema di nuovi investimenti, quindi di trasformazione di culture tradizionali in culture bio. Per far questo, oltre alla dotazione di circa un miliardo e mezzo sui TSR, dotazione storica per le regioni, abbiamo inteso spostare a ogni annualità, a quantia milioni di euro, il primo pilastro, il secondo pilastro, che quel cofinanziamento, l'intera programmazione 23-27, ci limitiamo al 23-27, visto che 21 e 22 sono di fatto proroghe della programmazione precedente, dicevo, in questi cinque anni c'è un miliardo aggiuntivo per il biologico. Tutto questo ci porta a dire che l'obiettivo del 25% della salva biologica, noi partiamo dal 16-16, lo potremo raggiungere non nel 2030, come previsto dagli obiettivi fissati dalla Commissione del nostro Paese, ma riusciremo a raggiungerlo nel 2027. Il vero tema sarà accompagnare nel mercato le culture bio e i prodotti bio. Per questo, attraverso il piano d'azione nazionale, che sarà rivisto ogni tre anni e grazie alla nuova legge sul biologico che il Parlamento ha approvato recentemente, crediamo di poter raggiungere non soltanto gli obiettivi di investimento e di SAO, ma anche di penetrazione sui mercati, perché è evidente che mi interessa meno avere il 25% di superficie bio e il 5% del mercato, devo avere il 25% di superficie bio e il 25% di mercato coperto da prodotti bio. Questo è ovviamente l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. è particolarmente importante per quanto riguarda il tema del benessere animale, il primo ecoschema è anche sul tema del benessere animale, stiamo facendo uno sforzo perché il decreto sul sistema di qualità nazionale benessere animale vada veramente a toccare il tema del benessere animale e non sia soltanto un pezzo di carta su cui si scrive che c'è benessere animale. Quindi dicevo, l'eposchema 1, al quale saranno destinati risorse, pare a 1,8 miliardi di euro e nell'ambito dello sviluppo rurale sono previsti 330 milioni di euro per l'adozione di buone pratiche zootecniche per il benessere animale e 70 milioni di euro per impegni voluti a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici. Per quanto riguarda altri punti, il tema della ridistribuzione dei pagamenti, quindi il 10% di distributivo e la convergenza, su questo torno a fare un attimo perché la Commissione ha voluto puntualizzare quegli elementi ma credo che sapremmo rispondere in modo adeguato, l'obiettivo è quello certamente di una ridistribuzione e di un percorso di convergenza verso gli obiettivi finali di superamento delle differenze che ci sono territoriali e di cultura in questo Paese, questo però va fatto con un accompagnamento nel tempo e non in modo repentino perché altrimenti significerebbe far fallire alcuni interi settori produttivi. Io credo che come descrizione del piano le cose che abbiamo previsto sia sostanzialmente completa, però credo che l'ultimo focus vada fatto sul piano di gestione del rischio. Come noto, il nostro Paese è stato promotore della proposta dell'aumento della possibilità di prelievo fino al 3% dal primo pilastro dei pagamenti diretti e appunto degli importi destinati ai pagamenti diretti per la gestione del rischio con un fondo di mutualizzazione. in legge di bilancio abbiamo rafforzato anche economicamente questa previsione, è stato dato mandato ad Ismea di gestire la costituzione di una società che avrà lo scopo di ente gestore della misura e stiamo facendo la sperimentazione sempre attraverso Ismea per la valutazione di come vanno valutati i danni naturali, stiamo implementando degli strumenti che ci consentiranno di agire molto rapidamente perché è evidente che il tema del tempo con cui vengono i traciti agricoltori non è una variabile indipendente e indifferente soprattutto la nostra volontà è quella di gestire con il fondo di mutualizzazione la parte bassa degli indennizi, dei danni catastrofali in modo da garantire poi con le assicurazioni la parte sopra il 40% dell'indennizzo. Questo dovrebbe consentire anche all'assicurazione di proporre prodotti più attraenti per gli agricoltori non ci sfugge, il tema vero è quello di garantire di portare gli agricoltori di tutto il paese non soltanto in qualche parte del nord ad essere assicurati e quindi anche in questo modo la spermatura del rischio consente una riduzione una riduzione dei premi andando poi ai temi citati dalla commissione io vorrei affrontare alcuni elementi che sono quelli che hanno maggiore rilievo innanzitutto i tempi del piano come noto il piano deve essere approvato entro il 31 dicembre di quest'anno le osservazioni sono arrivate a marzo ma abbiamo già attivato un confronto avviato un confronto con la commissione su base tecnica la nostra idea è quella di arrivare con la nostra proposta definitiva entro il 31 luglio di quest'anno in modo che poi ci sia la seconda fase di eventuali ulteriori osservazioni della commissione ma che ci porti con tranquillità l'approvazione del piano entro il 31 dicembre del 2022 devo dire che arrivate a fine marzo quindi a conflitto già in corso e a crisi internazionale già evidente ci aspettavamo da parte della commissione un atteggiamento leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in realtà la citazione dell'attuale crisi del settore primario avviene con una paginetta che la commissione ha legato quasi esposto alle osservazioni e che quindi non tengono assolutamente conto della contingenza per quanto riguarda appunto i tempi il primo obiettivo che dobbiamo prefiggerci è che è fortemente legato alle osservazioni della commissione riguardo all'approvazione del riparto del FEASR su questo volevo spendere due parole come è noto anche lo scorso anno c'è stata una interlocuzione molto stretta e stringente con la CTA e con la conferenza Stato-Regioni rispetto ai nuovi criteri di riparto FEASR si è arrivati ad un compromesso in consiglio dei ministri dove si è passati dai criteri storici a dei criteri misti tra una percentuale di nuovi criteri questo perché nella programmazione precedente si era detto ed era scritto nel verbale della conferenza perché la programmazione precedente sarebbe stata l'ultima con i criteri storici oltre ad aver modificato i criteri per il bienio 21-22 abbiamo però allocato circa 100 milioni di euro di risorse per andare a coprire le minori il minor range di spesa pubblica di quelle regioni che dai nuovi criteri avevano una diminuzione delle risorse risponditive la proposta che noi abbiamo inviato a Codaio alla CTA che abbiamo formalizzato nelle scorse ore dopo un'interlocuzione però formale che è avvenuta con diversi momenti di confronto prevede il superamento integrale dei criteri storici ma dei meccanismi dell'equilibrio del riparto in modo da garantire un elemento cioè che la spesa pubblica e questo grazie all'aumento delle percentuali di cofinanziamento la spesa pubblica complessiva che ogni singola regione avrà a disposizione per la programmazione 23-27 sia superiore a quella che avrebbe avuto a parità di condizioni e criteri storici quindi se non avessimo aumentato il cofinanziamento e mantenuto i criteri storici le regioni avrebbero tutte avuto meno risorse di quelle che avranno nella proposta che abbiamo formalizzato alla CTA io credo che su questo stiamo lavorando con l'assessore Caner che è il coordinatore della CTA in modo molto proficuo c'è grande disponibilità da tutti gli assessori bisogna chiudere questo percorso perché? perché la gran parte delle osservazioni che la commissione ha fatto non dico la totalità ma sicuramente la stragrande maggioranza riguardano richieste di chiarimento sulle modalità con cui raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo fissati che non sono sufficientemente chiariti perché non avendo le dotazioni economiche dei diversi delle diverse componenti del dei PSR non possiamo avere gli indicatori e quindi gli indicatori di output per tutte le schede di intervento e i 38 indicatori di risultato non possono essere determinati se non abbiamo la dotazione economica ma se non abbiamo l'accordo sul diparto FEAS ovviamente non possiamo avere non possiamo dire alla regione quanto saranno le loro risorse la risorsa disponibile per ogni stile regione e le regioni non possono ovviamente farci il quadro degli obiettivi raggiungibili e quindi stiamo lavorando proprio per arrivare io credo che entro questo mese avremo il il reparto definito e possiamo quindi rispondere dettagliatamente alla alla commissione per quanto riguarda la visione strategica di lungo periodo la commissione ci chiede uno sforzo per rafforzare la resilienza del settore agricolo e ovviamente noi ci adeguiamo a questa richiesta chiedendo di ridurre la dipendenza di fertilizzanti chimici aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabili e senza compromettere la produzione alimentare trasformare le capacità produttive in linea con metodi di produzioni più sostenibili ma questo è esattamente l'obiettivo del piano e per quanto riguarda la capacità di produzione di energia da fonte rinnovabili abbiamo spiegheremo la commissione quello che stiamo facendo sul piano nazionale di ripresa e resilienza che ovviamente deve intersecarsi con il piano strategico nazionale altro elemento che la commissione valuta in modo parzialmente critico è il tema della convergenza interna come noto la commissione ha fissato l'obiettivo dell'85% al 2026 della convergenza interna che noi rispettiamo nella nostra provisione di piano devo sottolineare che nel momento in cui la commissione stabilisce per regolamento qual è l'obiettivo minimo dà implicitamente la possibilità agli stati membri di adeguarsi a quell'obiettivo e non per forza aumentarlo a seconda delle decisioni che lo Stato membro prende essere criticati perché si raggiunge l'obiettivo lo trovo piuttosto surreale inoltre la commissione non ha compreso a nostro avviso in modo in modo completo un elemento che è fondamentale ci sono paesi che hanno comunicato di raggiungere un obiettivo più sfidante rispetto al 85% anche del 100% regionalizzando però l'applicazione e l'attuazione della convergenza cioè dividendo il paese in zone più omogenee è evidente che la convergenza in ogni singola zona può essere fatta al 100% ma in realtà il trasferimento economico tra i vari titoli è molto inferiore a quello che abbiamo noi che abbiamo invece fatto una scelta radicale cioè quello di vedere il nostro paese come zona unica di riferimento e quindi con le differenze massime che ci sono nel paese dei titoli in alcune zone e nei titoli delle altre questo ovviamente ci fa raggiungere l'85% ma ci fa spostare tra virgolette molte più risorse dai titoli alti ai titoli sotto la media nazionale questo lo cercheremo di spiegarlo con grande precisione alla commissione sperando che riescano a capire che lo sforzo che stiamo facendo è molto importante e che aumentare il livello di obiettivo della convergenza è tecnicamente possibile ma significa davvero mettere in crisi interi settori produttivi che non potrebbero reggere al peso della convergenza più spinta per quanto riguarda i pagamenti distributivi la nostra scelta è stata quella di un modello ibrido quindi il 10% prelevato viene ridistribuito tra tutte le aziende per i primi 14 ettari per tutte le aziende che hanno meno di 50 ettari su questo stiamo facendo valutazione di impatto rispetto a una eventuale parziale modifica della previsione però dal punto di vista regionale non cambia molto perché più o meno l'impatto a livello regionale rimane inalterato certamente se dovessimo individuare il modello puro ovvero la ridistribuzione soltanto tra le aziende personali di sotto della media dimensionale nazionale che è di 14 ettari ci sarebbe un impatto su alcune aziende molto maggiore consapevoli ovviamente della necessità di affinare alcuni aspetti tecnici relativi agli ecoschemi siamo altresì convinti che gli interventi abbiano saputo codire le principali priorità affrontabili con questo strumento ulteriori sfide ambientali saranno invece affrontate attraverso gli interventi agro-climatico ambientali anche questi da affinare nei prossimi mesi soprattutto a seguito del reparto dei fondi FEAS come dicevo voglio sottolineare che anche tutti gli strumenti messi in campo concorrono all'obiettivo della transizione ecologica ritenendolo un'opportunità e una leva di competitività venendo da altri temi dopo aver affrontato convergenza redistributivo il tema dei pagamenti accoppiati la richiesta della commissione è quella di finalizzare al contrasto della difficoltà dei settori importanti per l'agroalimentare nazionale ma è esattamente quello che abbiamo fatto prevedendo le culture che sono destinatari delle misure dei pagamenti accoppiati che peraltro sono e questo ha comprova che quelle previsioni erano corrette sono esattamente quei compatti che sono più colpiti dall'attuale contingenza dei mercati le risorse finanziarie messe a disposizione dalla PAC sono risorse sicuramente ingenti ma ovviamente costringono sempre ad alcune scelte lo dico perché una delle osservazioni della commissione riguarda l'assenza di ragionamenti di filiera nel piano sottopera nazionale quello che la commissione non può non sottolineare però è che abbiamo un miliardo e duecento milioni di piazza e di presa di esigenza sui contratti di filiera e quindi era probabilmente una duplicazione di utilizzo di risorse per vedere anche nel piano strategico nazionale i ragionamenti sulla sui contratti di filiera la commissione invita l'Italia a spiegare la logica di intervento in che modo l'organizzazione dei produttori e le cooperative saranno rafforzate e sviluppate nelle regioni e nei settori in cui la concentrazione dell'offerta è ancora limitata con l'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori della filiera alimentare siamo ovviamente consapevoli della necessità di favorire forme di integrazione e di concentrazione nell'offerta attraverso interventi nei comparti non contemplati dagli interventi settoriali anche su questo ovviamente spiegare una strategia alla commissione in merito agli interventi settoriali dei programmi operativi di SEDOP desta preoccupazione per la complessità e la perdita di sussidiariettori del SEDOP la richiesta della commissione di descrivere in dettaglio ciascun tipo di intervento questo sarà un problema materiale tecnico che dobbiamo risolvere con la commissione perché è chiaro che entrare nel singolo intervento della singola organizzazione dei produttori come descrizione al piano strategico diventa un lavoro che io ritengo quasi inutile in ordine all'assunitimento degli obiettivi la predisposizione del piano nella predisposizione del piano è stato richiamato l'articolo 48 del regolamento introdotto durante il negoziato che per i tipi di intervento nel settore di prodotti ortofattivi di giucco l'olio di oliva e altri settori permette di operare la pianificazione la rendicontazione la verifica dell'efficacia della forzione a livello dei programmi operativi e da questo punto di vista riteniamo la richiesta della commissione non in linea con l'esigenza di non appesantire dal punto di vista gestionale e amministrativo l'operatività del piano strategico nazionale la commissione richiama la necessità di una strategia per contrastare lo sfruttamento della manodopera agricola da questo punto di vista il nostro impegno è quello di attuare la condizionalità sociale dal primo giornale del 2023 stiamo lavorando su base tecnica per gli strumenti di controllo che sarà necessario implementare assieme ovviamente alle altre amministrazioni competenti al ministero interno al ministero del lavoro in particolare diverse osservazioni della commissione richiamano l'attenzione dell'Italia sulla gestione delle risorse idriche sull'efficienza energetica sulla produzione di energie da fonte rinnovabili sull'importanza dell'agricoltura di precisione la riduzione degli input la transizione alla fertilizzazione organica e la banda larga a questo proposito ribadisco un'altra volta come la programmazione del piano strategico sia realizzata in modo integrato con il piano nazionale di ripresa e resilienza sulle cui misure di competenza di questo ministero ho avuto modo anche di aggiornare le commissioni recentemente e anche oggi questa mattina con un aggiornamento dell'attuazione delle misure e in quel contesto sono stati introdotti proprio quegli elementi strategici che la commissione richiama e che stanno nella PAC e che stanno ovviamente nel piano nazionale intendiamo quindi illustrare i servizi tecnici della commissione piano integrato tra piano capito nazionale e piano nazionale di ripresa e resilienza prendiamo invece atto con soddisfazione che la commissione ha accorzato gli sforzi compiuti dall'Italia per l'armonizzazione degli interventi di sviluppo rurale anche se richiama l'esigenza di prevedere ulteriori elementi regionali e di targeting ci preoccupa non riteniamo tale richiesta compatibile con l'esigenza di garantire il giusto livello di sussidiarietà nei rapporti con le regioni che in Italia ovviamente non devo ricordare non è a voi nella conferenza delle regioni hanno competenza primaria nel settore agricolo per dettati costituzionali da questo punto di vista sottolineo che seppur sotto il cappello comune del piano strategico nazionale della PAC le regioni manterranno il volo di autorità di gestione avranno la responsabilità di allocare le risorse negli anni di migliorare il suo bisogno regionale e selezionare i progetti più meritevoli di finanziamento con riferimento all'osservazione di soldi interessi percentuali minime di allocazione delle risorse su alcuni interventi specifici l'Italia conferma la volontà di rispettare le soglie fissate dal regolamento e di verificare con la commissione il corretto utilizzo dei margini di flessibilità tra i due pilastri in conclusione così poi lascio a voi la parola l'ampio spettro dell'osservazione della commissione che peraltro al di là della loro numerosità si ripetono diverse volte nel testo che ci è stato inviato riguardano prevalentemente come dicevo le giustificazioni rispetto al target e agli obiettivi che al momento senza un criterio di riparto e quindi un'allocazione di risorse certe ovviamente non potevamo non potevamo dare sarà nostra cura farlo nelle prossime settimane sono certo che le giustificazioni che corremo alla commissione saranno apprezzate dalla commissione le spiegazioni che daremo saranno convincenti ciò non significa che il piano non deve essere minimamente toccato alcune delle osservazioni sono sicuramente degli spunti importanti di riflessione ricordo però che l'equilibrio difficilissimo raggiunto nel tavolo di paternariato deve tenere conto di tante esigenze che sono molto spesso in contrapposizione le une con le altre esigenze ovviamente dei produttori come quelle della transizione ecologica quindi degli ambientalisti con l'esigenza delle regioni di continuare a avere un ruolo centrale nella gestione della politica agricola che non vogliono ovviamente nel flusso naturale legato al nuovo regolamenti di risorse tra settori diversi vedere deteriorate le proprie capacità di spesa credo che questo equilibrio difficile sia stato raggiunto ricordando che l'agricoltura deve certamente adoperarsi per avere un minore impatto ambientale ma che questo percorso è stato fatto in modo profondo dai nostri produttori e che l'obiettivo principale della produzione agricola italiana è quella di produrre e di produrre cibo e questo non possiamo dimenticarci nell'attuale misure di sostegno che gli imprenditori chiedono io mi fermo qua ovviamente sono a disposizione fino a quando voi avete tempo per le domande per rispondere se non vi riesco a rispondere oggi potete o possiamo prevedere una risposta scritta puntuale su tutto oppure ovviamente torno in commissione e do le risposte che non tenete necessari grazie grazie ministro già ci siamo accordati col presidente Vallardi di fare interventi un po' deputati un po' senatori cominciamo col senatore Bergesio darò 4-5 minuti massimo in modo tale da poter far parlare tutti poi eventualmente recuperiamo alla fine prego grazie presidente anzi grazie presidente grazie signor ministro intanto grazie per l'attenzione anche dei suoi uffici del lavoro fatto con legislativo anche sul DL 21 Ucraina abbiamo impostato un lavoro importante vado subito alle domande per non perdere tempo allora intanto il tema moratorie che all'articolo 19 del DL 21 è stato integrato anche con l'amendamento per la riapertura dei termini delle per la rateizzazione delle quote latte un tema importante e che è stato affrontato però ci sono due aspetti che a mio avviso non vanno sottovalutati nel quale io chiederei l'intervento suo a livello anche dei consigli dei ministri da subito il primo tema è che quando un agricoltore si avvicina per chiedere questa moratoria e questa ristrutturazione del debito c'è un'indicazione della normativa di vigilanza bancaria istruzioni EBA che viene che potrebbe essere classificato for born questo significa che potrebbe venire segnalato immediatamente in centrale rischi se viene segnalato in centrale rischi e questo avrebbe la ristrutturazione del debito non potrà assolutamente fare futuri investimenti sì che gli abbiamo dato liquidità ma alla fine rischiamo di fargli chiudere l'azienda primo tema il secondo tema lei l'ha detto molto bene è quello legato al de minimis com'è possibile che solo l'agricoltura ha il de minimis a 25 mila euro quando tutti gli altri settori hanno il de minimis a 200 mila euro allora occorre far intervenire la commissione europea da subito per innalzare il de minimis perché io credo che voi li avete fatti io ho provato a fare un conto di un'azienda agricola media che ha un debito di 2 milioni e mezzo di euro se fa una ristrutturazione di questo debito totale compreso il conto corrente bancario a 25 anni il costo della garanzia diventa di 150 mila euro e noi abbiamo un de minimis da 25 mila euro costa di più il costo della garanzia che la rata annuale del mutuo perciò io credo che sia fondamentale intervenire perché guardi è la cura dei dettagli che fa grandi risultati a volte con un intervento mirato riusciamo a dare delle risposte molto molto importanti perciò alzamento del deminismo fondo filiere per aiutare quelle in crisi imprime il settore si imprime il settore zotendi i sostegni volevo chiederli come saranno devoluti e soprattutto in quali tempi le segnalo anche che la filiera che gli operatori della filiera spinicola sollecitano e chiedono a gran voce la convocazione del tavolo di filiera aperto anche i mangimisti i distributori eccetera per affrontare insieme questo lo chiedono mi pare già dal mese di marzo io credo che comunque se si riesce a convocare questo tavolo per loro sarebbe fondamentale il tema della peste suina africana anche alla luce del caso riscontrato a Roma proprio in questi giorni sembra comprovare l'idea che la diffusione della malattia venga attraverso il consumo di spazzatura lei non ritiene che si potrebbe intervenire attraverso dei piani adeguati veloci immediati anche col coinvolgimento eventualmente dell'esercito per degli abbattimenti selettivi e soprattutto su questo tema ci sono dei ristori da dare che idea vi siete fatti come li proponete come verranno date perché le risorse le abbiamo già messe anche negli ultimi due provvedimenti grazie naturalmente alle proposte fatte proprio da lei ministro per quanto riguarda il fondo di riserva per la crisi che sono euroi veri per gli agricoltori si tratta per l'Italia di 48 milioni di euro da cofinanziare con i fondi nazionali fino al 200% come inizia il ministero riuscire a proporre l'impiego di queste risorse che diventano fondamentali per il settore rimane ancora un tema che è quello chiudo che è quello che il credito d'imposta per il gasolio agricolo che pare che non sia prorogato ecco su questo tema volevo sapere se state intervenendo grazie signor ministro bene collega Taricco prego sì grazie grazie presidente anch'io ringrazio il ministro per il quadro che ci ha fornito sullo stato dell'arte sul percorso fatto e sul percorso che ci attende condivido l'approccio che il ministro ha dato sulla necessità diciamo così di correggere nell'entrata in pista e nel percorso quel percorso che dovrà portarci a dare risposta alle strategie europee senza modificare l'orizzonte finale credo che il quadro che ci è stato rappresentato sia un quadro che richiederà nei prossimi mesi un grandissimo lavoro io mi permetto di fare solo due domande vista la richiesta di celerità la prima questione credo che anche se in questa fase abbiamo messo in campo una mole ingente di risorse destinate ad affrontare tematiche che peraltro sono riprese anche dal documento della commissione europea sul risparmio idrico e sulla necessità di interventi finalizzati alla questione irrigazione per renderla sostenibile rimanga aperto lo ha dimostrato il bando che abbiamo fatto a livello nazionale la questione di fondo e cioè la necessità di disperdere meno acqua e di poter accumulare l'acqua nei periodi in cui questa c'è sostanzialmente per renderla disponibile nei periodi utili dato che abbiamo visto nel percorso che abbiamo fatto sin qui che il tema della predisposizione dei progetti per poter dare risposta a questi problemi è un tema complesso tanto che buona parte del paese come dire ha faticato molto ad arrivare pronta a questo appuntamento ed è un tema che richiede dei tempi molto lunghi perché predisporre il progetto di un invaso avere tutti i permessi le autorizzazioni necessarie per poterlo cantirare nel momento in cui si vuole partire a volte ci vogliono dieci anni sostanzialmente a fare un percorso del genere ecco la domanda e il suggerimento è di mettere in campo subito se non si ritenga di mettere in campo subito un ulteriore programma progetto in modo da offrire a tutti i consorzi rigui di bonifica a tutti i soggetti territoriali un orizzonte di lavoro certo perché il rischio che noi corriamo è di nuovo di arrivare fra 3-4 anni quando avremo concluso questo step a dire che c'è il problema ma trovare tutti impreparati ad affrontare quel problema quindi credo ci sia la necessità come dire di provare per quanto possibile a tracciare subito un orizzonte di lavoro in modo da creare come dire un non allentamento di tensione sul piano progettuale cioè il rischio che noi corriamo adesso per 3-4 anni di concentrarci sulla realizzazione delle opere per poi ritrovarci con il buco di orizzonte strategico credo sia fondamentale questa questione altra questione e chiudo tema aglovoltaico noi abbiamo modificato con l'ultimo provvedimento togliendo quel 10% che era stato introdotto alla Camera e mettendo la necessità di quel decreto se è possibile avere qualche parola qualche ragionamento sui ragionamenti che si stanno facendo in vista di quel decreto che dovrebbe definire modalità e criteri con cui andare a governare questo tema di produzione di fotovoltaico senza compromettere come dire la gestione agricola dei fondi grazie grazie Silvana Bate sempre 5 minuti prego allora grazie grazie al Presidente della Commissione grazie al Ministro allora Ministro io ho cercato di naturalmente nei limiti della mia competenza le eccezioni che la Commissione Europea ha sollevato a piano strategico nazionale e vedo che come giustificazione a quelle che sono le eccezioni dice che ci sono degli elementi mancanti incompleti o incoerenti naturalmente è migliorabile deve essere migliorato anche perché le critiche a questo piano strategico nazionale sono subito arrivate perché è un piano strategico nazionale spinto su alcuni settori e lascia scoperti completamente altri anche la questione diciamo della gestione regionale dei fondi si concentra sul fatto che non è che non devono gestire i fondi regioni ma ci vogliono degli elementi chiari e certi anche dei presupposti per andare poi a distribuire questi soldi che arrivano da questa PAC Presidente Ministro io le devo segnalare una gravità che sta compromettendo la conduzione democratica sia della commissione ma anche proprio delle prerogative parlamentari che le opposizioni hanno noi siamo completamente tagliati fuori sia dalla commissione sia da un'intervento attacciarci con lei perché naturalmente non veniamo assolutamente ascoltato se vuole conoscere anche le posizioni delle opposizioni ci convo che risponda soprattutto ai nostri inviti di essere ricevute non parlo singolarmente come senatrice ma anche come rappresentante del Copoi cosa le chiedo velocemente le chiedo le mie richieste sono queste aprire un tavolo sulla filiera ortofrutticola perché la filiera ortofrutticola è in sofferenza e nessuno ne prende atto rifinanziare la cambiale agraria perché le aziende le stanno chiedendo a un gran voce liquidità liquidità che non è certamente la rinvoltazione o ristrutturazione del credito che serve come diceva il collega alle grandi e medie imprese ma ci sono delle imprese che non riescono ad organizzare la prossima campagna produttiva quindi o una cambiale agraria o un finanziamento così come abbiamo richiesto in uno strumentamento stralciati completamente e poi le chiedo anche di ammettere ai tavoli e questo glielo chiedo anche a voce perché noi siamo stati escluse dalla commissione anche dalle cariche di presidenze vicepresidente e quant'altro che sono state solamente prese dalla maggioranza dalla maggioranza che è presente e lei sa che anche le opposizioni hanno delle prerogative chiedo di poter esprimere attraverso un suo scopo un suo ricevimento anche al ministero le posizioni di tanti agricoltori che non si sentono assolutamente rappresentate né da questo governo né dalle associazioni rappresentative grazie signor ministro bene andiamo avanti collega alla pietra grazie presidente grazie ministro allora una considerazione di carattere generale mi consente al ministro che è questo il piano strategico nazionale lei l'ha detto è di fatto un piano che ha cercato di trovare degli equilibri capisco l'esigenza perché gli attori in campo sono tanti ma è altrettanto vero che un piano strategico nazionale dovrebbe avere degli obiettivi e delle linee ben precise e qualche volta dobbiamo cercare anche di non accontentare tutti con mi passi il termine con un copio e un colla ma cercare anche di dare delle guide e delle direttive io più volte l'ho sollecitata nel coinvolgere anche le commissioni nell'analisi e nella stesura del piano li rinnovo ancora l'invito perché credo sia importante anche alla luce delle osservazioni fatte dalla commissione di poter coinvolgere le commissioni in questo lavoro perché credo che anche da qui possano venire degli spunti estremamente interessanti per quanto riguarda il piano dell'agricoltura nazionale su questo piano mi permette ci sono alcune cose che comunque secondo me mancano o andrebbero inserite innanzitutto un'azione forte per quanto riguarda la protezione dei nostri prodotti del Made in Italy sappiamo qual è il fenomeno dell'Italia and Sanding e quindi quanto pesa sull'economia nazionale quanto pesa in termini proprio economici il nostro esportazione è di circa 50 miliardi ma questo fenomeno ne vale quasi il doppio quindi ci devono essere anche azioni a mio avviso più forti su questo le faccio presente due cose manca completamente un'attenzione a mio avviso per quanto riguarda anche azioni per quanto riguarda il comparto pesca signor Ministro lei dovrebbe sapere se non lo sa ve lo accenno ma oggi i pescatori sono in una situazione veramente di crisi profonda stanno annunciando chiusure non vanno più in mare consideri che il fermo pesca del 2021 ancora non è stato pagato il fermo pesca 2021 sono tutte risorse importanti abbiamo dato il credito d'imposta ma non ci sono i codici da parte del Ministero per permettere ai nostri pescatori e agli agricoltori di inserire il credito d'imposta per quanto riguarda l'acquisto del gasolio il 16 adesso cioè lunedì ci sono pagamenti le F24 e le nostre aziende non sanno come fare perché proprio manca questi questi codici ha parlato di transizione ecologica un obiettivo sicuramente che deve essere perseguito ricordo però che noi dobbiamo andare in commissione forte del fatto che la nostra filiera agroalimentare nel suo complesso sicuramente è una delle più sostenibili se non la più sostenibile a livello europeo mondiale quindi non è che dobbiamo andare con sudditanza in commissione le ricordo che abbiamo fermo mi permetto di ricordarglielo il disegno di legge sul frarovivaismo abbiamo fatto un lavoro importantissimo sia alla Camera che al Senato siamo qui fermi perché c'è un parere della ragioneria dello Stato che blocca tutto qui anche qui entrerebbe un altro tema se è più importante la volontà politica la volontà burocratica però io le rinnovo questo invito nel cercare di sbloccare questo disegno legge in quanto riguarda fondamentalmente le aziende che producono il verde e non si può fare la transizione ecologica se non abbiamo le piante per quanto riguarda ha parlato dei pannelli solari dell'energia sono d'accordo con lei nell'ultimo decreto energia è passato un emendamento proposto da Fratelli d'Italia che è diventato legge l'articolo 11 bis che propone al governo una delega per fare un piano nazionale serricolo cioè per per far sì che sia per aumentare l'efficienza energetica di tutte le tutte le tutte le scusate del sistema serricolo nazionale credo che sia anche questo un punto un elemento importante per andare in questa direzione le pregherei il ministro di darne di prenderne visione l'ultima cosa e mi taccio anch'io ritorno un po' sul tema della PSA che secondo me è stata gestita cioè ci vogliono azioni determinanti e forti i cinghiali che passano che sono nelle città signor ministro sa sicuramente meglio di me che non possono stare la fauna salvatica non può stare in zone non vocate e quando ci sono in zone non vocate vanno segnalate e abbattute ma al di là di questo dei singoli casi specifici è chiaro che dobbiamo intervenire con delle azioni forti che peraltro ci dice anche l'Europa cioè la quantità e la popolazione degli ungolati deve essere diminuita per impedire appunto che ci sia la trasmissione del virus bene ci sono tantissime cose su cui potremmo approfondire signor ministro però la voglio ringraziare sicuramente del lavoro che sta facendo però la pregherei sicuramente di tenere in considerazione tutte le posizioni di tutti gli attori che sono nel settore agricolo però dobbiamo avere anche la forza di dare delle indicazioni perché un piano deve avere una strategia e degli obiettivi cercando sì sicuramente di avere tutti l'equilibrio ma deve dare anche delle strategie e per questo le rinnovo e l'invito di coinvolgere anche in questo lavoro le commissioni competenti grazie e buon lavoro collega Nevi prego collega Nevi mi sente? eccomi eccomi pronti sì pronti ci siamo? scusatemi eccoci qua sto qui in in giardino allora buongiorno a tutti buongiorno al ministro grazie presidente io in nome di Forza Italia volevo sottolineare la necessità in parte ricollegandomi anche all'intervento che ha fatto il senatore Vallardi di costruire diciamo delle norme che poi riescano a scaricarsi un po' a terra perché la critica che sentiamo ogni giorno ai nostri agricoltori è un po' questa cioè se si parla nei giornali nei convegni di tanti tanti soldi di tante risorse di tante misure e poi però nell'attuazione pratica non si riesce diciamo a vederne gli effetti quindi in particolare il tema secondo me che va riaffrontato della ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole c'è questo problema sicuramente che le banche stanno segnalando agli agricoltori della segnalazione in centrale dei rischi e quindi chiaramente si blocca completamente l'operazione volevo diciamo ribadire ancora una volta il grido d'allarme che sale per la mangimistica è evidente che c'è una crisi che può portare alla chiusura di moltissimi allevamenti soprattutto quelli di più piccole dimensioni che evidentemente hanno la impossibilità di fare dell'economia di scala come invece fanno i più grandi in questo senso penso che sia opportuno convocare un tavolo e cercare di costruire diciamo delle misure che riescano a temperare un po' questa grave crisi acuita dal tema della peste africana su questo le prime dichiarazioni del commissario Costa vanno nella giusta direzione noi auspichiamo che però si faccia presto e si passi finalmente dalle parole fatti concreti soprattutto per quanto riguarda il contenimento del numero dei cinghiali che è un problema sicuramente non solo per gli agricoltori ma anche sociale come abbiamo visto qui a Roma addirittura mi dicono ci sono problemi gravissimi nella definizione delle aree dello smaltimento rifiuti che chiaramente è stato il sistema di smaltimento rifiuti che è stato stravolto da anche questa emergenza c'è il tema sempre presente collegato a quello della mangimistica del latte e poi ci sono le osservazioni da rimandare alla commissione europea noi aspichiamo che non si faccia insomma tutto come al solito senza che sia colpa di nessuno per carità ma all'ultimo minuto ci sia la possibilità di un dialogo con almeno le commissioni di merito per definire le osservazioni da rinviare alla commissione europea ecco io signor ministro penso che stiamo lavorando bene abbiamo diciamo certamente avuto la possibilità come agricoltura di incidere anche su alcune questione alcuni decreti che sono arrivati negli ultimi tempi però ecco il tema è quello di magari costruire le condizioni per affrontarle in maniera più strutturale più sinergica e cercare di ecco andare oltre anche un po' l'esigenza e tutto questo è necessario mi avviso accelerare anche il tema del foro il fotovoltaico sì ho finito il tema del fotovoltaico l'hanno già detto anche altri certamente aspettiamo anche qui l'Europa ma insomma è evidente che finché non c'è una risposta definitiva sull'autoconsumo il meccanismo non parte quindi ecco auspichiamo che ci sia sempre maggiore dialogo tra le commissioni e il ministero e speriamo diciamo di poter concretizzare le misure che abbiamo messo in campo grazie 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 presidente grazie ministro ecco io ritornerò su un argomento di quando il ministro venne qui in commissione del senato in audizione se si ricorda discutemo le propusi una discussione anche allargata al di fuori del nostro paese per quel che riguarda la cisgenesi che migliora la genetica all'interno di una stessa specie vegetale per poter permettere affrontare attacchi alla specie stessa ad agenti esterni a seguito anche dei cambiamenti climatici e quindi sopravvivere e produrre con minore ad esempio apporto di acqua in talunni casi i nostri enti universitari sarebbero pronti i loro laboratori di biotecnologia nelle loro serre potrebbero già contenere le soluzioni ad alcuni problemi e parlando in generale delle nostre eccellenze universitarie del paese mi dicono notizia che anche il ministro che è nella sotterra del friuli Venezia Giulia le università si trovino in stato avanzato per quello che sarebbe la risoluzione di alcuni problemi legati al mondo dell'agricoltura e in quell'audizione se si ricorda il ministro ci riferì che avrebbe avuto un confronto con le istituzioni europee per portare avanti una politica che non è quella dell'OGM ma sicuramente di qualcosa di diverso che va anche verso la sostenibilità l'argomento ricordo che fu fra l'altro introdotto dal presidente del Vallardi per cui non fu una mia iniziativa così a spot ma c'è stata anche una condivisione di gruppo allora chiedo quali risposte abbia avuto su eventuale confronto con le istituzioni europee e fra l'altro cito un articolo di Italia Oggi di questa mattina dove il titolo è l'aleanza del vino sostenibile per ridurre la chimica e gli apporti fitosanitari fra i filari e questo è un esempio allora negli obiettivi di questo accordo è sottoscritto da fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige e istituto delle scienze della vita del vino di Bordeaux siglato dal direttore le varie autorità eccetera eccetera in questa con questa delegazione francese in Trentino il protocollo parte un minuto rivista comuni fra due centri fa cui il monitoraggio delle principali fitopatie lo studio dell'adattamento della vita ai cambiamenti climatici alle diverse malattie e l'utilizzo di tecniche di genome editing che genome editing non è altro che un tipo di ingegneria genetica il cui DNA inserito cancellato modificato rimpiazzato dal genoma dell'organismo vivente stesso allora ministro sa quanto noi amiamo il nostro paese a me piacerebbe molto che visto che i francesi si stanno muovendo su questi che lei guidasse l'agricoltura italiana perché lei è il nostro ministro verso questi obiettivi per risolvere alcuni problemi e non lasciare questo tema ad altri ma abbiamo delle eccellenze agricole universitarie chiediamo un simpegno in suo confronto con codeste commissioni per migliorare questo settore importante per il nostro paese grazie bene allora abbiamo la collega caretta prego sì grazie presidente grazie signor ministro per questo suo intervento tra le tante osservazioni che la commissione ha fatto c'è anche quella che mancano iniziative fortemente orientate al rilancio delle nostre aree rurali contro lo spopolamento volevo capire quali iniziative il ministero metteva in campo per riuscire a far fronte a questo inoltre c'è il problema della deroga del set aside è una deroga per un anno ma noi sappiamo benissimo che i terreni messi a riposo riusciranno a essere attivi non prima di due tre anni quindi chiedo se il ministero sta valutando di chiedere un ulteriore diciamo un aumento di questi tempi previsti dalla deroga altro problema gravissimo a mio avviso dobbiamo entrare nel merito velocemente ed è stato sollevato anche dai colleghi che mi hanno preceduto è proprio quello della fauna selvatica dannosa i nostri agricoltori stanno già soffrendo stanno soffrendo per il problema delle materie prime dell'energia inutile dirlo è stato ampiamente spiegato credo ci sia la necessità di riuscire a risolvere anche questo problema perché oltre alla situazione in cui si trovano a vivere oggi devono anche far fronte alla distruzione delle proprie culture agricole a causa dei troppi animali che distruggono appunto i loro raccolti il problema poi della PSA credo che avremo se non riusciamo ad intervenire in tempo avremo numerosi allevamenti sui nicoli che saranno costretti a chiudere quindi iniziative il il ministero intende adottare stiamo già discutendo una mozione in aula abbiamo fatto la discussione generale lunedì però credo sia necessario dare anche diciamo una risposta chiara e concreta e infine il discorso della tutela del Made in Italy anche qui non abbiamo visto sul piano strategico nazionale una difesa dei nostri prodotti Made in Italy e credo che riuscire a adottare anche un marchio nazionale che possa contraddistinguere i nostri prodotti Made in Italy possa essere questo un atto di fiducia verso i nostri i nostri agricoltori ultima cosa il problema dell'agri fotovoltaico un problema serio perché dobbiamo anche valutare il rischio che per andare a ricercare un efficientamento energetico c'è un rischio di andare a distruggere quello che è il nostro paese i nostri territori quindi una valutazione seria anche su questo sui pannelli fotovoltaici che a mio avviso non dovrebbero essere messi a terra che andrebbero a togliere terreno coltivabile ai nostri agricoltori è un momento in cui dobbiamo pensare a una sovranità alimentare e quindi pensare sì di adottare questi pannelli fotovoltaici ma solo ed esclusivamente nella copertura dei nostri capannoni grazie grazie abbiamo altri 5 interventi quindi chiedo magari in 4 minuti collega Caligiuli prego grazie Presidenti grazie signor Ministro per la relazione per i punti toccati per il lavoro che state facendo anche con con gli uffici con i diversi uffici andrò velocemente hanno già affrontato le problematiche sulla tanto desiderata di negoziazione ecco se curiamo qualche piccola cosa sicuramente uno strumento che può essere utile mi collego a quello che diceva anche lei sul regime de minimis però i tempi preoccupano perché far modificare il regime de minimis vuol dire far passare altro tempo che gli agricoltori non hanno quindi su questo volevo capire da lei che tempistiche il colloquio con la comunità europea e con la commissione potrebbe avere così come sul forborn perché poi Ismea fino a 25.000 euro coperto ma oltre applicherà un conteggio che è quello che è insomma autorizzato dalla comunità europea quindi effettivamente verrebbero una verrebbero degli importi di commissione elevatissimi ecco perché insomma volevo capire che tempistiche abbiamo anche eventualmente per modificare il conteggio del calcolo della commissione per cercare di applicare anche in questo caso dei tassi che possano andare incontro agli agricoltori sulle filiere olio in modo particolare ma ce ne sono tante altre che tempi ci sono quindi che scadenze verranno portate avanti così come sulla PSA e i cinghiali so che ieri in una riunione con tutte le regioni avete trattato nello specifico il tema e avete preso anche delle decisioni credo abbastanza importanti quindi se possiamo capire anche noi quali erano le finalità e gli obiettivi discussi ieri e così come sull'agrisolare agrivoltaico l'hanno già detto i colleghi importantissimo come diceva lei la correzione se possibile sull'autoconsumo perché in questo momento soprattutto credo che sia necessario ma anche qua i tempi cioè quando sapremo se la commissione europea dirà di sì a questa modifica sull'autoconsumo e quindi i tempi per l'attuazione nel prossimo in un prossimo decreto in arrivo credo che si parli anche di un aiuto alla liquidità fino a 30.000 euro 35.000 euro volevo capire di che cosa c'è effettivamente su questa tipologia di aiuto anche per i più piccoli e quindi capire l'evolversi di tutte le attività grazie grazie si è giunto un collega per l'intervento quindi chiedo a tutti di stringere il più possibile collega Mubisutti grazie grazie presidente grazie signor ministro la saluto molto volentieri il mio intervento vuole essere più collegato alle osservazioni che abbiamo ricevuto dalla commissione europea qui sono stati toccati tantissimi punti e direi anche in modo molto puntuale la domanda che io voglio fare a lei anche perché il tempo è brevissimo cosa intende controdedurre alla luce dei fatti che alcuni rilievi eccedono le competenze della commissione e se alla luce delle mutate condizioni derivanti dal conflitto in corso ritiene opportuno rivedere il piano di sviluppo nazionale le chiedo anche quali ulteriori pressioni intende fare alla commissione al fine di arrivare ad un ulteriore slittamento della nuova PAC di almeno uno o due anni lei vorrei fare un'altra osservazione in particolare credo che il lavoro fatto sia stato importante ma altrettanto importante forse non è una critica ma è davvero una riflessione che io faccio forse a quel tavolo bisognerà andare prima lavorare prima con la commissione su alcuni punti strategici perché noi sappiamo benissimo che poi diventa tutto più complicato inoltre si è parlato di tempo il tempo è fondamentale quindi io davvero spero che al tavolo che andrete a condurre con la commissione possiate davvero portare a casa qualcosa di assolutamente importante e ancora un'attenzione alle regioni a quelle che sono le competenze delle regioni io come lei vengo dal Friuli Venezia Giulia regione a statuto speciale che molto ha fatto sul piano di sviluppo rurale quindi io credo che quelle risorse umane e non solo debbano essere incanalate ancora per fare ancora e ancora meglio grazie signor Ministro grazie anche per la cenerità collega Biti prego grazie Presidente ma davvero breve perché hanno già detto tutto i miei colleghi grazie al Ministro io ho soltanto due cose mi permetto di ribadire ancora la grandissima attenzione al benessere animale di cui lei ci ha illustrato bene anche quanti e quante risorse verranno impiegate ma è un tema di cui a nostro avviso si parla anche un po' poco e invece le nostre aziende e i nostri allevatori sul territorio italiano sono già molto molto avanti nell'impiego appunto di pratiche che per prima cosa tengono in considerazione il benessere animale questo va sostenuto e va comunicato e quindi grazie per il sostegno e auspico anche una maggior comunicazione di quanto lavorino bene appunto le aziende e gli allevatori italiani ma il benessere animale non può non tener conto delle nuove malattie nuove non nuove delle malattie infettive che nuovamente si affacciano sul territorio la peste suina l'ha già ricordata il senatore Bergesio ma non possono ricordarla anche io lo sapevamo purtroppo la ringrazio anche io personalmente per quanto si è impegnato nel decreto peste suina per delle risorse ma sapevamo che era forse un pannicello caldo per un problema che invece appunto si sta dimostrando nella sua gravità e non dimentichiamoci l'influenza aviaria che ancora c'è e che sta colpendo i nostri allevamenti la seconda cosa che chiudo davvero che ci premo a ribadire l'ha detto bene il collega Taricco ma anche altri l'attenzione all'agrivoltaico alle nuove forme di appunto di sostegno energetico per preservare al massimo i campi e quindi il lavoro che la filiera agricola deve continuare a svolgere e che va anche questa implementata e quindi una grande attenzione perché ci vuole davvero tantissimo equilibrio per spingere da una parte a queste forme di nuove per produrre energia ma dall'altra alla tutela del nostro patrimonio grazie ministro grazie collega Ciaburro non la sentiamo mi sentite sì grazie presidente grazie ministro beh io credo che intanto dobbiamo partire dal piano strategico nazionale che lo dice nel suo contesto occorre avere una strategia e qua in qualche modo si vede che è come dire costruito un po' senza una visione di cosa vogliamo della nostra agricoltura ma detto questo tutte le osservazioni che vengono fatte di cui hanno argomentato bene anche molti miei colleghi io mi vorrei soffermare su due o tre aspetti uno è quello proprio che sottolinea anche la commissione che riguarda tutta la digitalizzazione nelle aree rurali e quindi il conseguente contrasto allo spopolamento e in tutta questa parte a parte le misure sulla carta che abbiamo adottato ma di fatto sono ancora delle aree quasi abbandonate rispetto alle nostre strategie nazionali per l'agricoltura e queste però necessitano di coordinamento anche con altre politiche all'interno di quella di strategia nazionale per l'agricoltura perché vanno a coinvolgere altre tematiche quindi credo che occorra anche fare sintesi con altri tavoli ministeriali per poter divenire a delle soluzioni davvero efficaci l'altra questione importante è il tempo su tutto perché se noi non andiamo a sburocratizzare soprattutto per i piccoli e anche tempestivamente dare sollievi di liquidità c'è chi nell'agricoltura addirittura non sapeva se iniziare il ciclo produttivo perché il prestito di conduzione l'ha utilizzato per quelle che sono state le emergenze di luce di rincaro gasolio rincaro mangimi e adesso si trova in difficoltà nel doverlo restituire quindi essere tempestivi con le misure anche per dare sostegno economico alla nostra agricoltura credo sia di vitale importanza poi volevo chiederle un tavolo con l'ortofrutta perché ci sono tantissimi consorsi che vedevano la loro produzione anche rivolta ai mercati che oggi sono compromessi dalla guerra in atto e quindi serve un tavolo urgente per garantire questi prodotti agricoli cercando nuovi mercati un'altra cosa è proprio una cosa importante abbiamo in Italia nella provincia di Vercelli un elevatore idraulico che porta su tutta una piana l'approvvigionamento dell'acqua ed è sottoposto però a dei costi come se producesse energia funziona senza nemmeno l'ausilio di una lampadina e credo che su questo bisognerebbe cercare di non affesantirli con quei rincari che devono pagare come se producessero energia quando invece utilizzano in modo maestrale ma anche degno di nota dal 1877 l'approvvigionamento di acqua con un qualcosa che è assolutamente idraulico e non non utilizza il consumo di energia grazie grazie abbiamo gli ultimi due interventi ovviamente il ministro non potrà fare in tempo a rispondere quindi riorganizzeremo e lo ringrazio della prossimo appuntamento passerei la parola ho detto questo perché poi a 9.30 dobbiamo chiudere al collega De Bonis prego anche lui 4 minuti massimo buongiorno mi sentite? perfettamente allora ho ascoltato l'intervento del del ministro e volevo fare diciamo 3 o 4 precisazioni molto veloci sulla questione del grano la nostra commissione sta completando l'affare assegnato ministro ma le posso già anticipare che insomma dal territorio i produttori ci chiedono che la commissione unica in questa circostanza in cui le materie prime sono diventate strategiche anche a seguito del conflitto in Europa tra Russia e Ucrania ci chiedono che la commissione da effettiva diventi da sperimentare diventi effettiva quindi una preghiera in tal senso per accelerare i tempi nello stesso momento tutto l'incremento dei costi che c'è stato sulle materie prime sull'energia carburanti e quant'altro fertilizzanti dalla Russia non potremo più importare alcuni fertilizzanti che sono privi di cadmio penso ai nitrati alle ore e questo complicherà moltissimo anche i piani di fornitura di azoto per le nostre coltivazioni c'è l'esigenza di rivedere lo spostamento ancora più forte di quanto abbia già stabilito la commissione dei premi dal secondo pilastro al primo pilastro naturalmente le regioni non spendono molte delle risorse che vengono assegnate in questa fase noi dovremmo poter intervenire a costo zero per le finanze italiane chiedendo all'Europa di spostare i finanziamenti dal secondo pilastro al primo pilastro aumentando i premi sulle produzioni che diventano strategiche in questo periodo di carenza o comunque di eccessiva finanziarizzazione e volatilità dei mercati per i prezzi internazionali chiedono altresì un marchio d'aria che possa tutelare in questo contesto mondiale in cui le commodity diventano sempre più strategiche e quindi anche qui una riflessione sarà fatta nella nostra commissione in modo da poi poterle pervenire un documento di sintesi sull'agrivoltaico attendiamo le disposizioni europee per andare oltre l'autoconso un minuto ma prego un minuto ma facciamo in modo che venga rispettata la destinazione del 40% all'interno della macro area del mezzogiorno e inviterei il ministro non so se è stato previsto anche utilizzando tutti quegli edifici rurali che magari oggi non sono stati utilizzati o sono fermi per quanto riguarda il bio gli operatori sollecitano che tempi ci sono riguardo al piano d'azione dell'agricoltura biologica e mi associo a quanto detto anche dagli altri colleghi sulle osservazioni per la maggiore convergenza riguardo al piano strategico grazie grazie a lei l'ultimo intervento collega Leonardo prego si mi sentite perfettamente bene buongiorno a tutti grazie ai due presidenti al ministro in modo particolare per la sua grande come dire disponibilità ho avuto modo di leggere un poco tutte le osservazioni che sono state fatte a livello dalla parte della comunità europea sono più di 250 un bel lavoro da fare per dare tutte quante le risposte d'altra parte bisogna tenere conto che una cosa era agire soltanto in presenza della covid invece cosa diversa e agire in un momento secondo quando si è aggiunta anche la guerra quindi le difficoltà sono tante quindi le auguro buon lavoro per dare queste risposte per arrivare ad un piano condiviso che possa essere accolto dall'Europa io volevo farle rivolgere al ministro un appello più che una domanda ho avuto modo di interagire con lui e lo ringrazio ma aspetto ancora una risposta ad una mia interrogazione a proposito della filiera bufalina allora quando noi abbiamo all'unanimità approvato in commissione un affaro assegnato all'unanimità e tutti quanti per i punti che avevamo come dire suggerito al governo non abbiamo visto diciamo la fine e ne ha forse neanche l'inizio così come anche nella regione campagna a cui alcune cose erano demandate detto questo sono sotto voglio dire nel cuore di tutti e negli occhi di tutti sono rimasti e la disperazione degli allevatori casertani e le immagini che ci sono state portate nel nostro caso da parte di report sicuramente tante cose magari non erano enfatizzate e su questo se ne è molto parlato ne ho parlato anche con gli stessi allevatori però tante cose forse andrebbero chiarite e io faccio un appello al ministro affinché riceva anche le delegazioni anche di quelli un poco tra virgolette borderline degli allevatori perché sono loro quelli che sono le persone più interessate sono loro che si sentono venir meno quando le loro aziende sono state completamente distrutte completamente chiuse e devono sentire in televisione magari dire che le analisi vengono fatte da parte 30 secondi per favore obsoleti chiedo scusa dico 30 secondi che poi dobbiamo chiudere grazie un attimo solo l'argomento è molto importante quindi voglio dire ringrazio il ministro se forrà un'attenzione particolare a questa a questa problematica che è molto seria per il sud e soprattutto per il territorio casertano e lo ringrazio per questo magari chiederò un appuntamento e una sua grande disponibilità affinché si possa approfondire perché sarebbe quasi il caso di chiedere una commissione di inchiesta perché le cose che sono state dette in televisione sono state molto gravi grazie grazie ringrazio tutti ringrazio anche la disponibilità del ministro per tornare la prossima volta per rispondere chiaramente lo ringraziamo della disponibilità del fatto che chiaramente l'osservazione della commissione prevalentemente dipengono dal fatto che ancora un accordo finanziario con le regioni su varie misure non è stato trovato ma sono certo che sarà fatto nei tempi corretti ringrazio il presidente Vallardi e poi ci riorganizzeremo anche col ministro per il secondo appuntamento bene abbiamo concluso grazie grazie arrivederci grazie buon lavoro